Ciao creativi! No, non devo imbavigliare qualcuno, oggi si crea con gli open bezel, quanto ci piacciono gli open bezel di tutte le forme, colori, dimensioni Insieme ai fiori secchi che trovate sempre sul sito di Reschimica Quando capirai che lo scotch non va usato con i guanti? Bravissima, ecco così, adesso posso mettere questa cosa a curriculum Dunque, ho poco tempo e voglio creare degli orecchini veloci che si abbinino perfettamente alla maglia che indosso Cioè quella con i girasoli di Van Gogh Infatti dal set sto scegliendo piccole margheritine che ricordino un po' i girasoli Vado ad utilizzare anche il pigmento Shimmer Deep Gold, sempre di Reschimica Come avete visto faccio un primo strato per bloccare il tutto e poi via sotto la lampada UV E via così, uno strato di resina UV alla volta Guardate quanto sono lucidini Faro il tutto con il trapanino manuale Monto ed eccoli finiti, fatemi sapere se vi piacciono Ciao!